Benvenuti a E tu cosa fai? Idee e storie di sostenibilità. Anche oggi cominciamo con la rubrica del professor Stefano Zamagni che ci racconta una parola in un minuto. Il tema dello smart working in tempi recentissimi è assunto agli onori della cronaca perché la vicenda della coronavirus ha obbligato il mondo delle imprese di paesi diversi tra cui il nostro a concepire un modo diverso di lavorare consentendo appunto il lavoro a distanza. Ora questo fenomeno che ha preso per i capelli il mondo dell'impresa perché l'alternativa allo smart working è la chiusura degli uffici, dei laboratori e così via con i danni che è facile immaginare. Ha e avrà sempre più nel prossimo futuro un impatto interessante e cioè che non è più possibile oggi pensare al lavoro secondo la modalità Ford Tayloristica. Il Taylorismo, Taylor, 1911, anno di pubblicazione della sua opera fondamentale intitolata l'organizzazione scientifica del lavoro. L'idea di Taylor era che il lavoratore dovesse la mattina andare alla fabbrica, che molto spesso era molto distante dall'abitazione, perché la catena di montaggio esigeva la presenza in situ di coloro i quali erano ad essa adibiti. Ora questo modo di concepire il lavoro oggi non porta più risultati perché deprime la condizione umana, perché ovviamente non fa giustizia del concetto di dignità del lavoro, ma soprattutto non è più funzionale agli obiettivi dell'impresa. Ora perché ancora non è diffuso lo smart working? Perché la più parte delle imprese non sono ancora state in grado o per volere oppure per incapacità, questo dipende dai casi, di modificare i processi lavorativi nel senso di andare verso la digitalizzazione completa del processo lavorativo. Non basta introdurre una macchina, una stampante, bisogna cambiare l'intera organizzazione. Quando questo avverrà, allora lo smart working diventerà un fatto normale. Il caseificio Comellini a Castel San Pietro Terme ha fatto di efficientamento energetico e sostenibilità valori fondamentali dell'azienda. Ne abbiamo parlato con Luca Comellini. Il nostro caseificio è dal 1969 che abbiamo iniziato l'attività. Lavoriamo circa 280 quintali, 300 quintali di latte al giorno e la maggior parte di questo latte viene raccolto qui attorno al caseificio nel raggio di meno di 10 chilometri. Quindi diciamo abbiamo una filiera corta e sono aziende agricole con cui collaboriamo ormai da 30 anni e sono nostri fornitori fidati. Abbiamo scelto di privilegiare i nostri produttori locali perché hanno un latte che deriva da un'alimentazione delle bovine particolari. Foraggi e fini della zona di medicina Castel San Pietro Terme sono di primissima qualità e questo conferisce al latte proprietà organellettiche che poi si trasferiscono a sua volta sul formaggio. Noi produciamo formaggi freschi, siamo specializzati in squacquerone di Romagna D.O.P., casatella, stracchino, una cacciota tipica di Castel San Pietro, un formaggio semiduro, ricotte tradizionali di siero e una ricotta a latte intero che si chiama mousse di latte. Poi abbiamo tutta una linea di prodotti senza lattosio con caglio di cardo vegetale per le persone intolleranti. Abbiamo inserito il tema della sostenibilità come uno dei nostri obiettivi della politica della qualità e da diversi anni che ci impegniamo in questo senso abbiamo analizzato tutto quello che è il ciclo produttivo, le varie fasi e abbiamo individuato obiettivi e risorse da destinare per cercare di migliorare. Durante il ciclo produttivo si utilizzano diversi macchinari e attrezzature, alcune delle quali fortemente energivore e su queste attrezzature abbiamo deciso di adottare delle tecnologie ad inverter che permettono di abbassare i consumi elettrici di un 20-30%. Lungo poi il ciclo produttivo il formaggio deve essere raffreddato rapidamente e in fase di maturazione ha mantenuto una temperatura controllata. Abbiamo abbandonato tutto un sistema di rifrigerazione a unità singole con una grande carica di gas fluorurati che hanno un grande impatto sul buco dell'ozono. Abbiamo adottato un impianto di produzione del freddo centralizzato a basso consumo energetico e con gas in linea con le direttive europee. Inoltre durante le fasi di lavaggio che sono una parte preponderante dell'attività di un casificio, tutta l'acqua, l'ultima acqua di risciaco, quindi la più pulita, non viene buttata in fonia ma per abbassare i consumi idrici del casificio la recuperiamo e la utilizziamo per effettuare prima attività di risciaco, quindi per togliere le parti più grosse dello sporco in modo da ridurre quello che è l'impatto del consumo idrico per litro di latte trasformato. Infine l'ultima parte dove ultimamente ci stiamo impegnando è il materiale che utilizziamo per il pack, per confezionare i formaggi. Fino ad oggi abbiamo utilizzato dei materiali plastici che non potevano andare nella plastica, nella raccolta differenziata e li stiamo abbandonando e stiamo utilizzando dei monomateriali plastici, questi sono 100% riciclabili. Tra l'altro anche nelle grafiche stiamo rinnovando per poter abbassare quello che è il pensatuale dei pigmenti nei materiali e quindi migliorare la qualità del riciclato. L'ultima cosa che abbiamo adottato è l'abbandono di imbali secondari derivati dal petrolio, quindi polistiroli, per utilizzare i cartoni. Abbiamo dei ragazzi che sono tanti anni che lavorano con noi, hanno iniziato che erano ragazzi e quindi abbiamo persone che in questo momento stanno tra poco, andranno in pensione e hanno lavorato con noi tutta la vita, quindi ci fa piacere perché evidentemente il clima e l'ambiente di lavoro è positivo e tutti si trovano bene, insomma speriamo di mantenerla così. Maurizio Melis di Radio 24 ai nostri microfoni ha parlato di sostenibilità, innovazione e nuove tecnologie. Maurizio Melis, divulgatore di Radio 24 con il suo Smart City, l'innovazione, parlate di innovazione ma a che punto siamo in Italia con l'innovazione e con la sostenibilità? Allora intanto in Italia si fa, diciamo l'Italia è un paese che continua a sformare tantissime idee, con tantissime competenze, con difficoltà da parte della ricerca spesso a reperire fondi, oggi la ricerca in Italia si fa quasi solo con fondi europei, questa è una cosa che va detta, visto che poi anche questa sera saremo qui a parlare del rapporto tra questi tre ambiti, quello dell'innovazione, quello della sostenibilità e la dimensione europea. L'Italia è un paese sano con ancora tantissime forze, tanta capacità di invenzione, i nostri ricercatori sono tra i più prolifici al mondo in termini di pubblicazioni, naturalmente la capacità poi di realizzare che spesso non c'è invece rischia nel lungo periodo di indebolire anche la parte creativa perché se ne va questa parte creativa. Però io credo che ancora adesso abbiamo tante frecce al nostro arco, questo dal punto di vista della ricerca che in buona parte oggi è ricerca rivolta ai temi della sostenibilità perché sappiamo che è una priorità assoluta per il nostro paese e per tutto il mondo. Per quanto riguarda il percorso dell'Italia verso la sostenibilità, se stiamo a guardare gli obiettivi che ci aveva dato l'Europa da raggiungere entro il 2020, 2020 per tanti anni l'abbiamo identificato come l'anno della scadenza degli accordi di Chioto, credo che lo identificheremo con un'altra cosa alla fine 2020, con un piccolo oggetto che ha dato tanti problemi, però rispetto a quel percorso lì, il percorso su quale ci eravamo impegnati siamo messi bene, ma la strada che resta da fare è tantissima, in realtà gli impegni che abbiamo preso per il 2030 e poi per il 2050 sono molto più difficili da rispettare di quanto non sia stato rispettare gli impegni precedenti, quindi cosa c'è scritto lì? È ora di agire. L'APAN con Fartigianato Modena e Reggio, sponsor del Forum Sostenibilità e Innovazione 2020, ne abbiamo parlato con Daniele Casolare, responsabile sindacale. Qual è il ruolo delle piccole e medie imprese nel mondo, in questo mondo variegato della sostenibilità? Dunque, le piccole e medie imprese rappresentano un elemento, la sostenibilità per le piccole e medie imprese rappresenta sicuramente un'opportunità, un'opportunità di rimanere competitivi sul mercato, quindi come associazione abbiamo già deciso da diversi anni di intraprendere un percorso e una progettualità, un percorso per innanzitutto sensibilizzare le piccole e medie imprese, ma anche l'opinione pubblica, facendo degli incontri mirati con dei divulgatori scientifici, ma anche andando ad analizzare i temi principali della sostenibilità e dell'economia circolare applicata appunto alle piccole e medie imprese. È un'opportunità ed è importante quindi anche capire, e l'abbiamo fatto attraverso un'analisi e un approfondimento sulle piccole e medie imprese del territorio, parlo di imprese artigiani e commercianti, parlo nelle diverse filiere, quindi il comparto costruzioni piuttosto che le aziende del manifatturiero o anche le aziende di trasporti, quindi capire come queste imprese si riescano ad adeguare e rimanere sul mercato, quindi diventando sempre più sostenibili. Un ultimo aspetto che ci tengo a sottolineare è come sia fondamentale anche l'apporto della classe politica, che la classe politica secondo noi deve avere una visione di lungo termine in modo tale da permettere poi agli imprenditori di organizzarsi con degli investimenti mirati nell'ambito della sostenibilità. Un esempio secondo noi virtuoso è l'ultimo, quello contenuto nel DL rilancio sul super bonus, questo perché secondo noi prima di tutto rappresenta un'opportunità reale di rilancio dell'economia del comparto costruzioni che danni in sofferenza, ma soprattutto se risulterà poi come noi tutti speriamo potrà andare a riqualificare il patrimonio edilizio esistente andando a migliorare le abitazioni sia da un punto di vista sismico che da un punto di vista ambientale, quindi questo per noi è il primo esempio comunque reale e virtuoso anche di sostenibilità pubblico privato. Grazie per averci seguito, vi aspettiamo la settimana prossima alla stessa ora sempre su TRC con nuove storie di sostenibilità, per rimanere aggiornati con le nostre news potete trovarci al sito www.etucosafai.it